Alla vigilia dell'Assemblea dei Sindaci sulle nuove tariffe dei servizi idrici messe a punto dall'Autorità Idrica Toscana sulla base delle indicazioni dell'Agenzia Nazionale, il Forum Toscano dei Movimenti per l'Acqua chiede in una lettera ai primi cittadini di bocciare le nuove tariffe definendole illegittime perché reintroducono sotto altre voci quel 7% in più che nelle vecchie bollette andava sotto la voce di remunerazione del capitale investito, abolita proprio con il referendum sull'Acqua del 2011. Chiediamo ai sindaci di non approvare la nuova tariffa che è stata fatta con le norme dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas che è un'autorità nominata dal governo e che reintroduce praticamente quelle che il referendum ha tolto, vuol dire il profitto garantito. I movimenti sottolineano come il nuovo metodo tariffario comprometta anche l'eventuale ripubblicizzazione del servizio idrico integrato. Per quanto riguarda invece gli investimenti per l'ammodernamento degli impianti i movimenti ricordano che questa componente è sempre stata presente nelle bollette e nessuno l'ha mai abolita. Piuttosto, secondo i movimenti, le aziende dei servizi idrici potevano fare a meno di distribuire gli utili ai soci. Queste aziende che gestiscono l'acqua, l'anno scorso in tutta la Toscana si sono spartite come utili 35 milioni di utili. Questi soldi, piuttosto di distribuire i soci, potevano essere investiti 35 milioni ogni anno, diciamo, sono già un bel capitale, in più di quelle che sono già stanziati. In occasione dell'assemblea dei sindaci i movimenti hanno organizzato un presidio di protesta a Firenze.